44. Alla luce di una lampada a olio, il colonnello Macklin ammirò se stesso nello specchio del bagno della roulotte Airstream. L'uniforme nazista grigio verde era un po' stretta sul petto e sulla parte centrale del tronco, ma le maniche e le gambe dei pantaloni erano abbastanza lunghe. Alla vita aveva una fondina di pelle nera e una luger carica. Ai suoi piedi portava anfibi nazisti chiodati che, di nuovo, erano un po' stretti, ma Macklin era determinato a farli andare bene. La giacca dell'uniforme era decorata con medaglie e nastri e, anche se lui non ne conosceva il significato, pensò che avessero un aspetto impressionante. L'armadio nel porcile, che era la stanza da letto del defunto Freddy Kempka, era stato pieno di uniformi naziste, giubbotti protettivi, anfibi, fondine e cose del genere. Alla parete sopra il letto c'era appesa una bandiera nazista e uno scaffale conteneva libri come «L'ascesa e la caduta del Terzo Reich», «Strategie e manovre militari», «La guerra nel Medioevo» e «Una storia della tortura». Roland si era impossessato dei libri e li stava divorando con pura passione. Sheila Fontana dormiva nell'altra camera da letto, restando da sola per la maggior parte del tempo, tranne quando Macklin aveva bisogno di lei. Sembrava contenta di fare il suo dovere, anche se restava distesa fredda e immobile, e diverse volte il colonnello l'aveva sentita piangere durante la notte, come se si fosse svegliata da un incubo. Durante i pochi giorni in cui avevano occupato la roulotte, Macklin aveva stilato un inventario dettagliato di ciò che Freddy Kempka aveva raccolto. C'erano abbastanza cibo spazzatura e bibite gassate per nutrire un esercito, una gran quantità di acqua in bottiglia e anche cibo in scatola, ma Macklin e Roland erano interessati soprattutto alle armi. La camera da letto di Kempka era un arsenale di mitragliatrici, fucili, pistole, una cassa di razzi di segnalazione, granate fumogene e granate a frammentazione, e scatole, borse e caricatori a piastrine sparpagliati in giro come loro in una tesoreria reale. Non era necessario che il soldato ombra dicesse a Macklin che aveva trovato il paradiso. Macklin osservò la sua faccia allo specchio. La sua barba stava crescendo, ma era così grigia da farlo sembrare vecchio. Kempka gli aveva lasciato un rasoio a lama fissa e lui decise che si sarebbe rasato. Anche i suoi capelli erano troppo lunghi e incolti, lui preferiva il cortotaglio militare. Kempka aveva lasciato anche un paio di forbici che avrebbero eseguito il compito alla perfezione. Si chinò in avanti e fissò se stesso negli occhi. Erano ancora affossati e portavano ancora il ricordo del dolore che aveva attraversato la sua ferita nel grande lago salato. Un dolore così lancinante che aveva rimosso la vecchia pelle morta che lo aveva rinchiuso così a lungo. Si sentiva nuovo, rinato e di nuovo vivo. E nei suoi geli di occhi azzurri rivide il Jimbo Macklin di un tempo, di quando era giovane e veloce. Sapeva che il soldato Ombra era orgoglioso di lui, perché era di nuovo un uomo intero. Gli mancava la sua mano destra, ma aveva intenzione di imparare a usare una mitragliatrice o un fucile con la mano sinistra con la stessa efficacia. Dopotutto aveva tutto il tempo del mondo. La ferita era fasciata con strisce strappate da un lenzuolo e trasudava ancora, ma la pesantezza era sparita. Macklin sapeva che l'acqua salata aveva bruciato l'infezione. Pensò di avere un aspetto molto attraente, sì, molto regale nell'uniforme nazista. Forse era stata l'uniforme di un colonnello tedesco, riflette. Era in ottime condizioni, con solo qualche buco di tarma nella fodera di seta. Evidentemente Kempka si era preso molta cura della sua collezione. Sembravano esserci più rughe sul suo volto, ma aveva anche qualcosa di lupesco e pericoloso. Calcolò di aver perso undici chili o più dal disastro di Earth House. Eppure c'era solo una piccola cosa sulla sua faccia che lo infastidiva. Sollevò la mano e toccò quella che sembrava una crosta marrone della dimensione di un quarto di dollaro, proprio sotto l'occhio sinistro. Tentò di grattarla via, ma era saldamente fusa alla pelle. Sulla fronte aveva quattro croste della dimensione di una moneta da dieci centesimi, che all'inizio aveva scambiato per verruche, ma non riuscì a grattare via nemmeno quelle. Forse un melanoma, pensò. Forse l'hanno causato le radiazioni. Ma aveva notato un'escrescenza simile a una crosta, anche sulla pelle di Roland. Anche questa grande quanto una moneta da dieci centesimi. Un melanoma, pensò. Beh, avrebbe preso il rasoio e le avrebbe tagliate via mentre si radeva, e quello avrebbe messo fine alla cosa. La sua pelle era troppo resistente per un melanoma. Ma pensava che fosse strano che le piccole croste rotonde fossero presenti solo sulla faccia. Non sulle mani, né sulle braccia, o in qualsiasi altro posto, solo sulla sua faccia. Sentì bussare alla porta della roulotte, e lasciò il bagno per andare ad aprire. Roland e Lori, entrambi armati di fucile, erano tornati dalla missione di ricognizione che avevano eseguito con altri tre soldati robusti. La notte precedente, una delle sentinelle del perimetro, aveva visto scintillare delle luci a sud, a cinque o sei chilometri nel deserto. «Due roulotte», riferì Lori, tentando di non fissare troppo apertamente l'uniforme nazista indossata dal colonnello. Kempka era sempre stato troppo grasso per infilarcisi dentro. «Tirate da un furgoncino Chevrolet e da una Pontiac. Tutti i veicoli sembrano in ottime condizioni». «Quante persone?», chiese Macklin, aprendo una caraffa d'acqua di bottiglia e offrendola all'altro. «Abbiamo visto sedici persone», gli disse Roland. «Sei donne, otto uomini e due bambini. Sembravano avere una gran quantità di benzina, cibo e acqua, ma hanno tutti cicatrici da ustioni. Due degli uomini camminano a stento». «Hanno armi da fuoco?» «Sì, signore». Roland prese la caraffa da Lori e beve. Pensava che l'uniforme fosse bellissima addosso al re e desiderò che ce ne fosse una della sua taglia da indossare. Non riusciva a ricordare molto di quello che era accaduto quella notte con Freddy Kempka, ma ricordava di aver avuto un sogno molto vivido in cui uccideva Mike Arnbruster. «Uno degli uomini aveva un fucile». «Solo un fucile? Perché pensi che non siano venuti qua? Sai che devono aver visto le nostre luci». «Potrebbero avere paura», disse Roland. «Potrebbero pensare che prenderemmo loro tutto quello che hanno». Meklin riprese la caraffa, la tappò e la appoggiò di lato. Una porta si aprì e si chiuse, e esci la fontana attraversò il corridoio ed entrò nella stanza. Si fermò di colpo quando vide l'uniforme. «Potrebbero farci comodo le rullotte e i veicoli», decise Meklin. «Ma non abbiamo bisogno di nessuno con segni di ustioni. Non voglio nessuno con ustioni, nel nostro accampamento». «Colonnello, ci sono già trenta o più persone qui che sono state ustionate nel... ha capito», disse Lori. «Voglio dire, che importa?» «Ci ho riflettuto molto, caporale Lori», rispose lui, e anche se non l'aveva fatto, suonava comunque impressionante. «Credo che le persone con ustioni, con... cheloidi», disse, ricordando il nome scientifico di ustioni causate da esplosioni nucleari, «siano nocive per il morale dell'accampamento. Non abbiamo bisogno che si ricordi la bruttezza, vero? E le persone con ustioni non baderanno alla propria igiene come il resto di noi, perché si vergognano del loro aspetto, e si sono già demoralizzati». Si ritrovò a fissare la crosta sul mento di Roland. Era della dimensione di un quarto di dollaro. Non era stata più piccola appena pochi giorni prima. Il suo sguardo si spostò. C'erano altre tre piccole croste all'attaccatura dei capelli del ragazzo. «Le persone con ustioni diffonderanno le malattie», disse al caporale Lori. Osservò il volto dell'altro uomo, ma non vide nessuna crosta. «Già così avremo abbastanza problemi a tenere le malattie fuori dal nostro accampamento. Per cui voglio che domani mattina raduni tutti quelli con le cicatrici d'austione e che li porti fuori dall'accampamento. Voglio che non tornino». Capito? Lori iniziò a sorridere perché pensava che il colonnello stesse scherzando, ma gli occhi azzurri di Maiklin lo fissavano glaciali. «Signore, non intenderà dire di ucciderli tutti, vero?» «Sì, è quello che intendo». «Ma perché non bandirli e basta? Voglio dire loro di andarsene da un'altra parte». «Perché», disse Roland Croninger, che aveva colto il nocciolo della questione, «non andrebbero in nessun altro posto. Di notte si intrufolerebbero nell'accampamento e tenterebbero di rubare cibo e acqua. Potrebbero aiutare le verruche di terra ad attaccarci». «Giusto», concordò Maiklin. «Quindi questa è la nuova legge dell'accampamento. L'accesso è vietato a chiunque abbia segni di ustioni e porterai quegli altri fuori domani mattina e loro non torneranno. Roland verrà con te». «Posso farlo da solo?» «Roland verrà con te», disse Maiklin con calma, ma determinato. E già Deloria bassò lo sguardo. «Ora un'altra cosa. Voglio che organizzi una squadra domani mattina e che distribuisci una parte di questo alla mia gente». Annui verso i cartoni di bibite gassate, sacchetti di patatine, biscotti e torte. Si rese conto di aver detto «la mia gente». «Voglio che siano felici. Fallo dopo aver svolto il primo compito». «E per quella gente con le roulotte là fuori?» Maiklin ci riflette. «Oh», pensò, il soldato Ombra sarebbe stato orgogliosissimo di lui. «Di quanti soldati hai bisogno per andare lì e prendere quei veicoli?» chiese. «Non lo so, quattro o cinque, immagino. Bene, allora vai là fuori e riportali, ma non la gente. Non ci serve gente che non è in salute». «A cosa ci servono le roulotte?» chiese Sheila. «Stiamo bene così». Non sopportava di guardare la faccia di Jadlory, perché la perseguitava nei suoi incubi, insieme a un neonato che continuava a piangere. Un cadavere decomposto di nome Rudy strisciava nella polvere dei suoi sogni, proprio fino al suo letto, e lei pensava che stava impazzendo. «Perché?» disse Meklin, voltandosi verso di lei. «Non resteremo qui per sempre. Non appena ci saremo organizzati e rimesse in salute, non appena avremo risollevato il morale. Noi ce ne andremo». «Andarcene!» la donna rise. «Andarcene dove, eroe di guerra? Sulla fottuta luna?» «No, attraverso il paese. Magari verso est. Possiamo rifornirci in viaggio». «Intendi spostarci tutti a est? E per quale motivo? Dove si può andare?» «Le città», rispose Meklin. «O quello che ne resta. Le cittadine, i villaggi. Potremo costruire le nostre città, se ne avremo voglia. Possiamo iniziare a rimettere insieme le cose, come avrebbero dovuto essere fin dall'inizio, prima che succedesse questa merda». «Tu sei impazzito, amico», disse Sheila. «È finita! Non lo capisci?» «Non è finita. Sta appena iniziando. Possiamo ricostruire le cose, ma meglio di com'erano. Possiamo avere legge e ordine, e possiamo fare applicare le leggi». «Quali leggi? Le tue? Quelle del ragazzo? Chi farà le leggi?» «L'uomo che ha più armi da fuoco», disse Roland. Il colonnello Meklin riportò l'attenzione su Judd Lorry. «Sei congiadato», disse. «Porta qui le roulotte entro due ore». Lorry uscì. Quando fu fuori, sorrise al cielo notturno e scosse la testa. Quella merda da soldati aveva dato alla testa al colonnello, ma forse aveva ragione a volersi liberare di tutti quelli con cicatrici d'austione. A Lorry comunque non piaceva guardare tutte quelle ferite che gli ricordavano l'olocausto nucleare. I segni delle ustioni erano brutti. «Mantieni bella l'America», pensò. «Uccidi uno sfregiato oggi». Si addentrò nell'accampamento per scegliere quattro uomini per la missione, ma sapeva che sarebbe stata una passeggiata. Non si era mai sentito così importante in tutta la sua vita. Prima del disastro non era stato altro che un commesso in un'armeria. E adesso era un caporale dell'esercito del colonnello Meklin. Era come svegliarsi in una nuova pelle. «Non è finita», aveva detto il colonnello. «Sta appena iniziando». All Lorry piaceva come suonava. Nella roulotte, Sheila Fontana si avvicinò a Meklin e lo squadrò dall'alto in basso. Vide la svastica nazista su diverse delle mostrine che indossava. «Come dobbiamo iniziare a chiamarti ora? Adolf?» La mano di Meklin scattò e le afferrò il mento. I suoi occhi scintillavano di rabbia e la donna si rese conto di aver superato il limite. La mano stringeva con tanta forza da sembrare pronta a spezzarle la mascella. «Se c'è qualcosa che non ti piace qua», le disse lui piano. «Sai dov'è la porta? E se non stai attenta a come parli ti getterò tra le verruche di terra. Oh, sono certo che adoreranno avere compagnia. Tu che dici, Roland?» Il ragazzo si strinse nelle spalle. Poteva vedere che il re stava facendo male a Sheila e la cosa lo infastidiva. Meklin la liberò. «Sai una stupida», disse. «Non vedi come potrebbero essere le cose, vero?» Sheila si strofinò la mascella. «Amico, la partita è finita. Tu parli di ricostruire e tutte quelle stronzate, ma siamo fortunati ad avere un pitale in cui pisciare». «Lo vedrai». Lo sguardo dell'uomo le scrutò il volto in cerca di piccole croste. «Ho dei piani. Piani importanti. Vedrai». Non trovò traccia di melanoma sul volto di Sheila. Lei notò i suoi occhi in movimento. «Che c'è che non va? Ho lavato i capelli ieri». «Lavali di nuovo», disse lui. Puzzano. Guardò Roland. Fu colto da un'ispirazione improvvisa. «L'armata della perfezione», disse. «Come ti sembra?» «Bello». A Roland piaceva. Aveva un suono ampio, grandioso e napoleonico. «È ottimo». «Armata della perfezione», ripete Macklin. «Abbiamo una lunga strada da fare. Dovremo trovare altri uomini robusti e donne. Ci serviranno altri veicoli e dovremo portare con noi cibo e acqua. Possiamo farcela se ci applichiamo anima e corpo». La sua voce si alzò per l'eccitazione. «Possiamo ricostruire le cose, ma meglio di quanto siano mai state». Sheila pensò che avesse perso il senno. «Armata della perfezione, un cazzo». Atene a freno la lingua, intuendo che sarebbe stato meglio lasciare che Macklin continuasse a sfogarsi. «Le persone mi seguiranno», continuò. «Fino a quando fornirò loro cibo e protezione, loro mi seguiranno e faranno tutto quello che dico. Non devono amarmi, anzi, non devo nemmeno piacere a tutti, ma mi seguiranno lo stesso perché mi rispetteranno. Non è così?» chiese a Roland. «Sì, signore», rispose il ragazzo. «La gente vuole che le si dica cosa fare. Non vuole prendere le decisioni da sola». Dietro i suoi occhialini anche gli occhi del ragazzo avevano iniziato a scintillare di eccitazione. Lui poteva vedere il quadro grandioso che il re stava dipingendo. Un'enorme armata della perfezione che attraversava il paese a piedi, su automobili e roulotte, che sopraffaceva e assorbiva altri accampamenti e comunità, che diventava più forte, ma solo con uomini e donne in salute e senza segni che erano disposti a ricostruire l'America. Sorrise. «Oh, che partita al cavaliere del re era diventata questa!» «Le persone mi seguiranno», disse il colonnello Maclean annuendo. «Farò sì che mi seguano. Insegnerò loro tutto su disciplina e controllo e loro faranno quello che dico. Giusto?» I suoi occhi scintillarono in direzione di Sheila. Lei esitò. Sia l'eroe di guerra che il ragazzo la stavano guardando. Pensò al suo letto caldo, a tutto il cibo e alle armi che c'erano lì, e poi pensò alla gelida zona delle verruche di terra e alle cose che scivolavano nell'oscurità. «Giusto», disse. «Tutto quello che dice». Entro due ore, Lori e la squadra d'assalto tornarono con il furgoncino Chevrolet, con la Pontiac e con le due roulotte. Il piccolo accampamento era stato colto di sorpresa e non c'erano state ferite o perdite per l'armata della perfezione di Maclean. Lori consegnò diversi zaini pieni di cibo in scatola e altre bottiglie d'acqua, più tre tanniche di benzina e una confezione di olio per motori. Tirò fuori dalle tasche orologi da polso, anelli di diamanti e un fermasoldi pieno di pezzi da 20 e da 50. Maclean gli lasciò tenere uno degli orologi e gli disse di distribuire azioni extra al resto della squadra d'assalto. Diede il più grosso degli anelli di diamanti a Sheila Fontana, che lo fissò per un momento mentre scintillava sul palmo di Maclean e poi lo prese. C'era l'iscrizione da Daniel a Lisa, amore per sempre. Solo dopo averlo indossato, quando lo stava ammirando alla luce della lampada, si rese conto che nell'incastonatura c'erano granelli di sangue secco che davano ai diamanti un aspetto sporco. Roland trovò una cartina stradale dello Utah sul pianale posteriore della Pontiac e nel cassetto portaoggetti trovò diversi pennarelli e un compasso. Portò tutto il bottino al re e Maclean lo ricompensò con una delle medaglie decorate con una svastica. Roland se la puntò immediatamente alla camicia. Alla luce delle lampade, il colonnello Maclean spiegò la mappa sul tavolo nel suo quartier generale e si sedette per studiarla. Dopo qualche momento di riflessione silenziosa, prese un pennarello rosso e iniziò a disegnare una freccia frastagliata che puntava a est. «Il mio grande uomo», disse il soldato ombra, sporgendosi sulla spalla di Maclean. E la mattina dopo, sotto dense nuvole grigie che si muovevano lentamente verso est, Roland, Lori e dieci uomini scelti scortarono 36 uomini, donne e bambini con cicatrici d'austione, fino al margine della zona delle verrucche di terra. Quando la sparatoria fu finita, le verrucche emersero dalle loro buche e si fecero avanti per reclamare i cadaveri.